Come settare al meglio una Taranis o qualsiasi radio con firmware OpenTX da zero ad avere tutte le funzioni necessarie? Scopriamo oggi come fare. Bentornati in un nuovo video, oggi andremo a settare al meglio la nostra radio, partendo da un livello zero, portandola a un livello completo, così si può dire. Sarà una guida molto lunga, se cercate un singolo argomento trovate la leggenda qua sotto in descrizione, cliccando sul minuto il video inizierà dall'argomento che stavate cercando. Sarà un tutorial a 360 gradi, qualsiasi utente, dal principiante al più esperto, potrà seguire la guida e impostare al meglio tutto. Gli argomenti che andremo a trattare saranno aggiornare OpenTX, metterlo in italiano, creazione di un modello, creazione dei singoli canali, tutti i canali che avremo bisogno per volare in FPV, andremo a scoprire come impostare al meglio l'RSSI con qualsiasi ricevente, andremo a creare e ad inserire le voci sulla nostra radio in modo tale che quando andiamo a switchare il comando ci verrà detto cosa stiamo facendo. Aggiornamento modulo esterno, in questo caso R9M, e aggiornamento modulo interno, aggiornamento del ricevente e non poteva mancare il bind tra la radio e la nostra ricevente. Fermiamoci e iniziamo a lavorare. Aggiorniamo OpenTX. Per prima cosa cosa dovremmo fare? Dovremmo portarci sul sito OpenTX, trovate tutti i link in descrizione. Download, ovviamente scaricheremo l'ultima versione, in questo caso abbiamo la 2.3.7. Prima di scaricare OpenTX dovremmo scaricare Downloads, SD Card, Content, in questo caso dovremmo munirci di una SD Card libera. Se riuscite formattatela, in modo tale da esser sicuri che sia vuota. Ovviamente l'SD Card sarà dedicata alla radio, non la andremo più a togliere. Schiacciamo sul link SD Card, dopodiché andremo a scegliere la nostra radio, in questo caso OpenTX X9D Plus 2019, scegliete la vostra. Una volta che andiamo a cliccare dovremmo scegliere anche la versione più aggiornata, in questo caso è la V0026 Zip. Scompattate il file e successivamente andremo a vedere cosa ne dovremmo fare. Torniamo indietro e ora non ci rimane che andare a scaricare la versione corretta per il nostro computer. In questo caso io utilizzo Mac e andrò ad installare la versione per Mac. Scaricati i contenuti dell'SD Card non ci rimane che copiarli sull'SD Card stessa, quella che abbiamo formattato. Una volta copiate tutte le varie cartelle installiamo OpenTX e dopodiché ci richiamo in impostazioni, radio profile, aggiungi profilo radio, descrizione, diamogli il nome, andiamo a scrivere il nome della nostra radio, tipo di radio dovremmo scegliere il modello, corretto mi raccomando, in questo caso FR Sky Taranix X9D Plus 2019, ok? Lingua per i menu, sarebbe più corretto utilizzare l'inglese in quanto sono più precisi ma io in questo caso andrò a selezionare la lingua italiana anche se non sono tradotti proprio perfettamente. Qua sotto opzioni per la compilazione andiamo a mettere Flex R9M in modo tale che potremmo andare ad inserire un firmware Flex sul nostro modulo R9M. No Eli in quanto non voglio i menu dedicati agli elicotteri, se utilizzate l'ua script allora andate a selezionare l'ua e se volete un font un pochino più carino potete andare a selezionare SQT5 font, in questo caso non lo andrò a selezionare. Dopodiché schermata di avvio potrete andare a mettere il vostro logo, io vado a inserire il mio, modalità stick, modalità 2, solitamente uno pilota in questa modalità e dovrete andare a selezionare, se avete OpenTX in inglese T A E R solitamente, mentre se lo avete impostato come me selezionate M A E D che sarebbe l'equivalente di T A E R. Non ci rimane che dare l'ok, dopodiché dovremo scaricare il nostro software, quindi scarica, download firmware, lo mettiamo direttamente nella cartella Taranis, salva, già scaricato, ok, andiamo nella nostra cartella Taranis, nella nostra microSD e non dovremo fare altro che portare il file appena scaricato in firmware, ok. Chiudiamo tutto, chiudiamo anche il computer, prendiamo la nostra radio e andiamo ad inserire la microSD all'interno. Dovremmo accendere la radio in modo particolare, ovvero portare questi due trim all'interno e andare a premere il pulsante di accensione, ok, lasciamo ed eccoci qua in bootloader, write firmware, quindi andiamo a scrivere il firmware, eccolo qua, scriviamolo, premiamo enter e si sta scrivendo. Operazione completata, exit, perfetto, ora abbiamo aggiornato completamente OpenTX ed è una cosa differente aggiornare il modulo della radio, ovviamente. Configuriamo i settaggi base, ovvero il voltaggio della batteria e l'orario, come fare? Semplicissimo, dovremo andare in menu, dovremo tenere premuto per qualche istante menu, ci uscirà questa impaginazione, andiamo avanti con page, page, qua potremo andare a settare i valori base, data 2020, ovviamente voi mettete il giorno corrente, sono le 13 e 36 e ora il valore più importante, ovvero il voltaggio della batteria. Se utilizziamo una batteria a lipo, due celle, 2S, dovremo andare a mettere valore minimo, voltaggio minimo, 7,2, massimo 8,4. Se invece andiamo ad utilizzare una batteria all'ion, dovremo mettere 6 come valore minimo e 8,4 come valore massimo. Se scendiamo potremo andare a modificare il volume, potremo andare a modificare il colore dello schermo, ovvero più blu o meno blu e così via, avremo una serie di parametri base. Io lascerei come è di configurazione. Usciamo e ora avremo il valore della batteria corretto, molto importante. Configuriamo il nostro modello, è giunta l'ora. Vi ricordo che una volta configurato il nostro modello, successivamente potremo andare a copiarlo e poi rinominare il modello in modo tale da avere tutti i parametri che abbiamo impostato nel modello stesso. Iniziamo subito. Per la prima cosa andiamo in menu, come vediamo abbiamo il modello 01, perciò proseguiamo con page, pagina 2 di 12, nome modello andrò a chiamarlo chimera 6s. Per fare la lettera minuscola basta mettere il premuto, voi potete dare naturalmente il nome che più vi aggrada. 6s, exit, torniamo indietro e possiamo proseguire in giù. Qua lasciamo tutto invariato. Scendiamo, scendiamo. Qua lasciamo tutto invariato. Qua potremo scegliere il modulo interno. Se abbiamo una ricevente compatibile access, scegliamo access. Se no andiamo a scegliere access di 16 e basta perché questa non ha di 8. In questo caso io il modulo lo spengo perché ho un modulo esterno. Modulo esterno lo vado ad attivare e vado a mettere R9M access, avendo la possibilità di utilizzarlo in modalità access. Ovviamente il modulo R9M dovrà essere aggiornato e dovrà essere il modello 2019. Qua lasciamo tutto invariato, andiamo giù. Molto importante, in modo failsafe, andiamo a mettere no impulse, no impulsi. In quanto se non andiamo a settare, ogni volta che andiamo ad accendere la radio ci verrà l'avviso ed è un po' noioso. Ovviamente il face safe lo andremo a settare su Betaflight. Schermata 2 l'abbiamo configurata, andiamo avanti. Page. Schermata 3 non ci interessa. Pagina 4 o 5 dipende. Ingressi. Qui dovremo andare a impostare tutti i vari canali sia in questa pagina sia nella pagina dei mixer. Come tornare nella pagina precedente basterà schiacciare Page. Andiamo a creare il nostro primo canale. Clicchiamo nome arm ovvero armato e disarmato. Scriviamo arm, exit, scendiamo giù, sorgente. Con quale switch andremo ad armare e disarmare il nostro drone? Io solitamente utilizzo questo che voi non vedete. Andiamo a switcharlo. Come vedete cambia la sorgente, la impostiamo e usciamo. Dopodiché andiamo nella pagina successiva dei mixer e andiamo canale 5. Come vedete c'è già arm e lo chiameremo a 1. Per comodità. Exit. Torniamo nella pagina precedente. Ingresso 6. Nome ingresso, mod, le modalità di volo. Angle, Horizon e Acro. Exit. Sorgente. Dovremmo selezionare uno switch a tre posizioni. Io solitamente utilizzo questo qui. Come potete vedere è cambiato. Exit, Exit. Pagina successiva. Canale 6. A2. In questo modo andremo a creare tutti i vari canali di cui avremo bisogno. E in questo video vi faccio vedere tutti i canali che io utilizzo. Page. Ritorniamo nella scheda degli ingressi. 7. Nome ingresso, TART, ovvero per azionare flip over the crash. Dovrebbe essere così, ovvero che quando cadiamo andiamo a switchare e potremmo ribaltare il nostro quadricottero e ripartire. Modalità Tartaruga si chiama. Exit. Sorgente. Solitamente io utilizzo questo switch qua nell'ultima posizione. Poi da Betaflight ovviamente si andrà a selezionare che è l'ultima posizione. Per cui sorgente ok. Exit. Exit. Pagina successiva. Canale 7. Nome mixer. A3. Exit. Pagina precedente. Ingresso 8. Lo lasciamo un attimo in sospeso in quanto andremo a impostare l'RSSI su questo canale. Lo vedremo tra pochi istanti. Andiamo nell'ingresso 9. Nome ingresso, Bipper, ovvero quando andremo a switchare il nostro drone, se è munito di un buzzer, andrà a suonare in modo tale da poter ritrovare il quadricottero. Io lo chiamo Bip. Exit. Sorgente. Utilizzo lo stesso switch della modalità tartaruga. Ok. Exit. Exit. Pagina successiva. E canale 8. Lo lasciamo libero. Canale 9. Quindi dovremo mettere A4, A5. 5. Exit. Pagina precedente. Ultimo canale che andremo a creare. Andatelo a creare solamente se avete il GPS ovviamente. Sorgente. Io solitamente utilizzo questo switch qua. Exit. Pagina successiva. Andiamo giù. Canale 10. Quindi A6. Abbiamo configurato la nostra radio. Possiamo andare a inserire le varie voci. Ovvero se switchiamo, magari ritorno a casa o armiamo, la nostra radio ci dirà proprio armato, disarmato. E trovo che sia una funzione davvero super comoda. Finalmente ora andiamo a inserire le voci sulla nostra Taranis. Ci sono vari metodi. Oggi vedremo un metodo univoco ovvero che va bene sia per Mac ma anche per Windows. Le voci che dovrete registrarvi, segnatevele su un foglietto, sono armato, disarmato, angle, horizon, acro, modalità tartaruga, RTH e infine beeper che sono anche i canali che abbiamo aggiunto prima. Mettiamoci al lavoro e mettiamo le voci sulla nostra radio. Possiamo scegliere se registrare delle voci con una voce preimpostata, ad esempio questa, armato, oppure dei nostri cari, ad esempio le ho fatte con la voce della mia fidanzata. Come fare? Se non vogliamo personalizzare la voce andiamo su Not Vibes e ci registriamo ad esempio con Facebook. Andiamo a scrivere i vari input che ho detto precedentemente, ad esempio armato, scegliamo la voce italiano Maria ma ci sono anche altre voci. Ovviamente dobbiamo scegliere la lingua italiana. Si va su convert e dopodiché si può ascoltare. Armato e si procede con il download. Semplicissimo. Ci spostiamo, dovremmo scaricare anche Audacity, è un programma gratuito, si scarica semplicemente. Possiamo trovarlo per Windows, per Mac. Scaricato Audacity ecco come si presenta. Addirittura con questo pulsante di registrazione potremmo registrare la nostra voce direttamente su Audacity. Io ho fatto la mia cartella con tutti i vari input. Andiamo a farne uno, poi voi farete tutti gli altri. Armato, ad esempio. Andiamo a importarla. Ok. Andiamo a tagliare la parte in eccesso. Bosterà selezionare e cancellare semplicemente. Andiamo a sentire. Armato. Perfetto. Ora non ci rimane che, prima di tutto, selezionare uno mono. È già mono. Prima di salvare, dovremo andare qua sotto nella frequenza, emettere 32.000 e assicurarci che qua sopra sia uno mono. Dopo di che andiamo file, esporta, esporta come wav, mettiamo il nome appunto armato, scegliamo la cartella di destinazione, tipo file wav microsoft 16 bit, salva e il gioco è fatto. Proseguiamo con tutte le varie tracce. Abbiamo i nostri file convertiti in punto wav. Non ci rimane che prendere la micro sd della Taranis e inserire il nostro pc. Dopo di che andiamo in sound italiano. Non ci rimane che andare a prendere tutti i file e copiarli. Rimettiamo la micro sd nella radio e andiamo a settare tutto. Prima di iniziare dovremo andare in menu page, page, pagina 3 di 7, menu principale della radio, non del modello. Scorriamo verso il basso fino ad arrivare lingua voce e dovremo impostare italiano. Exit, exit. Ora entriamo nel menu del modello, andiamo avanti fino ad arrivare in funzioni speciali. Non ci rimane che andare ad impostare per ogni switch il comando da dire. Enter. Dovremmo scegliere lo switch, armato. Dovremmo dargli il comando, suona traccia e andiamo a inserire la traccia, ovvero armato. Proviamo. Armato. Perfetto. E potremmo anche dire quante volte dirlo. Ovviamente basta una volta. Exit. Secondo. Selezioniamo. Armato. Sempre lo stesso switch verso il basso. Ok. Impostiamolo. Suona traccia. Disarmato. Sono in ordine alfabetico. Una cosa fondamentale. In questo caso ho abbreviato disar, in quanto se scrivessimo tutto disarmato non ce lo legge, non appare, perciò abbreviate i nomi lunghi. Disarmato. Proviamo. Armato. Disarmato. Perfetto. Una volta. Ora andiamo a fare tutte le varie modalità di volo con lo switch che abbiamo dato con la modalità di volo e potremmo aggiungere qualsiasi traccia. Abbiamo finito di inserire le tracce audio. Sono davvero molto comode. Ovviamente dovete metterle negli switch che poi andate ad utilizzare con le modalità che andrete ad impostare su Betaflight. Aggiorniamo il modulo esterno della nostra radio, in questo caso l'R9M, e una ricevente, in questo caso l'R9MM. Ma la procedura è uguale per tutte le riceventi. Se non riuscite a fare il bind, che dopo andremo a fare, non vi preoccupate, basterà aggiornare la ricevente. Come fare? Basterà andare nella pagina di download, avere la fibra, scendiamo, qua troviamo già le riceventi, io ho l'R9MM, ci fa scegliere Access, Firmware o Access, dipende dalla vostra radio, basterà leggere appunto qui, oppure se in questo caso avete il modulo dovete leggere sul modulo. Se avete l'ultimo modulo disponibile, ovvero l'R9M 2019, potete tranquillamente installare il firmware Access. Mi raccomando, anche la radio dovrà essere Access. Clicchiamo. Come possiamo vedere ci sono già stati alcuni aggiornamenti, ovviamente scarichiamo l'ultimo. L'ultimo è stato rilasciato dieci giorni fa, non male. Download. E ora andiamo a scaricare il firmware per il nostro modulo esterno. Ritorniamo indietro, andiamo in Moduli, eccolo qua. Dovremmo scegliere R9M 2019, se voi non avete il modulo basterà aggiornare solamente la ricevente, ovviamente. In questo caso andiamo a scaricare ovviamente il firmware Access, sempre. Prima abbiamo scaricato Access e anche adesso andremo a scaricare Access. Ultimo firmware, per cui Download. Ho inserito la microSD che trovavamo all'interno della radio e qua abbiamo le due cartelle che abbiamo appena scaricato. Quale di questi va bene? Questa è la cartella riguardante la ricevente. In questo caso andiamo a mettere il file Flex e anche per il modulo Flex. Perfetto, dovremmo andare in Firmware e andiamo a buttare sopra le due cartelle. R9M 2019 sarà il modulo. R9 Mini sarà la ricevente. Mi raccomando, se scegliete FCC, dovrà essere anche qua FCC. Se scegliete Flex dovrà essere Flex per entrambi. E se scegliete LBT, mi raccomando fate attenzione perché ad esempio sui moduli R9M e sulla ricevente le antenne sono tarate per le FCC. Per cui è meglio scegliere Flex in modo tale che potete scegliere direttamente dalla radio se scegliere FCC oppure LBT. Non ci rimane che andare a estrarre la microSD e iniziare ad aggiornare. Per aggiornare il modulo è semplicissimo, che sia quello interno che sia quello esterno. Basterà andare in Menu, Page, Firmware. Dobbiamo scegliere ovviamente R9M 2019. L'altro è il firmware per aggiornare la ricevente. Teniamo premuto e dovremo andare a Programma, Modulo, Esterno. Confermiamo e ora attendiamo la scrittura del firmware. Aggiornamento riuscito. Perfetto. E ora andiamo ad aggiornare la ricevente. Per aggiornare una ricevente dovremo avere un cavo servo e andare a saldare appunto il 5V, il GND ovvero il negativo e il cavo verde o giallo, dipende un po' dal colore che avete, alla porta S Port o F Port. E ora possiamo andare ad aggiornare il tutto. Come fare? Basterà andare ad inserire il cavo servo sul retro della nostra Taranix. Se avete una QX7 vi basterà aprire lo sportellino posto al di sotto e andare ad inserire appunto il cavo servo in questo modo, con il GND sulla vostra sinistra, come state vedendo in questo istante. In questo caso, con la Taranix X9D Plus abbiamo il connettore posto sul retro. L'abbiamo inserito, ci sono le scritte, quindi facilissimo. E ora non ci rimane che andare ad installare il nuovo firmware. Come fare? R9M, premiamo, il primo che vi salta fuori, è quello giusto, che sarebbe S Port, perfetto. E come potete vedere la ricevente si sta aggiornando perché abbiamo le luci che lampeggiano. Attendiamo la scrittura, mentre se avete una ricevente FRSKY XM+, al posto che andare a saldare il cavo giallo verde all'S Port, si aggiorna tramite SBUS, in quanto avrà solamente tre collegamenti sulla ricevente. Abbiamo appena aggiornato la ricevente. Risaldiamo i cavi che avevo saldato in precedenza, ovvero SBUS, GND e 5V. Vi ricordo che l'SBUS, solitamente sul libretto delle istruzioni, che se non trovate nella ricevente quando vi arriva, basterà andare a cercare sul sito in cui l'acquistate e dovrà essere SBUS OUT. Ho dovuto risalare il firmware sia del modulo ma anche della ricevente e ho dovuto mettere FCC. In quanto se non abbiamo una ricevente OTA, ma solamente R9MM o R9MINI, dobbiamo utilizzare il firmware FCC. Ora ho installato tutto, sia nella radio che nel modulo e ora vi spiego come bindare in access. Ma prima, se non avessimo una ricevente access oppure non avessimo un modulo esterno, ad esempio abbiamo il modulo interno ON oppure abbiamo un R9M, normale. Il metodo per bindare è semplicissimo. Basterà andare qua, bind, va bene, canale 1, 8, telemetria ON, sentiamo il beep, segnalo acustico e ora premiamo il tastino posto sulla ricevente. Su ogni ricevente c'è un tastino, dopodiché andiamo a connettere la batteria tenendo premuto il tastino. Rilasciamo, una volta rilasciato il tastino andiamo a cliccare su bind, scolleghiamo la batteria, ricolleghiamo e il bind è fatto. Ovviamente dovremo avere la luce verde sulla nostra ricevente. In questo caso che abbiamo il protocollo access dovremo agire in modo leggermente diverso, ovvero rimettiamo qua a modo failsafe, no impulsi, proseguiamo sotto. Ora dovremo registrare la ricevente. Registriamo quindi enter, praticamente fa lo stesso rumore del bind, premiamo sempre sulla ricevente sul tastino, batteria, colleghiamola. Come avete potuto notare, ora c'è il buzzer, come avete potuto notare, nome RXR9 mini. Ci siamo quindi enter, registrazione, ok. Scolleghiamo la batteria, ci portiamo al di sotto quindi ricevente 1, bind, enter. Attendo la ricevente, basterà connettere la batteria senza premere il tastino. Vediamo proprio, seleziona RXR9 mini. Associazione riuscita, binding effettuato con successo, ottimo. Non ci rimane che rimontare il drone. Valore importantissimo quando andiamo a volare è l'RSSI, ovvero la qualità del segnale tra la nostra radio e il nostro drone. Come si fa ad andare a impostare? Dovremmo collegare la batteria al nostro drone. Dovrà essere ovviamente tutto bindato, tutto a posto. Menu. Dovremmo andare nelle ultime pagine. Eccoci qua, pagina 11T12. Dopodiché dovremmo andare in cerca nuovi sensori. E dovrebbe apparirci RSSI. Perfetto, ferma ricerca. Ora possiamo tranquillamente scollegare la batteria dal drone. Torniamo nelle pagine precedenti. Negli ingressi, 8, che prima avevamo lasciato libero ma è indifferente. Potremmo andarlo anche a mettere nel 12, nel 13 e così via. Andiamo nell'8. Nome ingresso RSSI. Sorgente. Teniamo premuto. Dovrà venirci telemetry. E dovremmo impostare RSSI. Mi raccomando, non mettete nemmeno ne più. Semplicemente RSSI. A scala dovrà essere messa a 100 dB. Mi raccomando. Exit. Andiamo nella pagina 5. Canale 8. Nome mixer A4. Dovremmo andare a modificare questi valori. 100 dovrà essere 200. E offset dovrà essere meno 100. E abbiamo dedicato un canale all'RSSI. E in più solitamente voglio che con questo switch, questo qui che torna indietro, mi legga l'RSSI. Se sono impegnato a volare, switcho quello e lui mi legge l'RSSI. Andiamo nelle modalità speciali. Ok. Set. È indifferente ovviamente. Interruttore. Andiamo a mettere questo. Ora dobbiamo andare a mettere leggi valore. Ok. E naturalmente andiamo a mettere RSSI. E ora andiamolo a settare correttamente su Betaflight. Colleghiamo il nostro drone a Betaflight. Prima di connetterlo, mi sono dimenticato, togliete sempre le eliche. Mi raccomando, non si sa mai. Andiamo a connettere anche la batteria. Non ci rimane che andare nella sezione ricevente. E come potete notare, AUS4, quello che abbiamo impostato, sarà il nostro RSSI. Come fare quindi AUS4 RSSI. Non dimenticatevi di andarlo anche a inserire nell'OSD. Come potete vedere, nelle nuove riceventi potremmo evitarci di creare un canale, dato che la ricevente, come potete vedere, crea già un canale RSSI, ma io ho notato che è più preciso ed è più comodo fare questo procedimento. Per cui ve lo consiglio. E naturalmente non ci rimane che salvare e riavvia. E abbiamo terminato. Per avere un drone preciso bisognerà andare a calibrare gli endpoints. Come si fa? Semplicissimo. Menù, page, 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 ed ecco qua. Uscite. Come potete notare, abbiamo 988. Non va bene. Questo è il throttle, ovvero il gas. Deve stare con un valore minimo di 1000. Valore intermedio, ovvero l'offset, a 1500. E valore massimo 2000. Quindi dovremmo andare a regolare questi valori. Iniziamo dal centro del gas. Dobbiamo portare il joystick esattamente al centro. Vediamo che è 1501. Balla un po'. Balla un po'. Per cui andiamo a selezionare. Offset. Ok. A meno 0.2 è 1500. Preciso. Valore minimo. Portiamo il gas completamente giù. E andiamo a portarlo a 1000. Come vi dicevo prima. Ed eccoci qua. 1000. Massimo. Deve essere a 2000. E' 2012. Dovremmo portarlo verso 2000. Perfetto. 2000. Exit. Il canale 2 corrisponde al roll. Riportiamolo in centro. Offset è già 1500. Perfetto. Mentre il minimo è 988. Lo teniamo. E nel mentre andiamo a regolare il minimo. E lo portiamo a 1000. Ok. Massimo. 2012. Dovremmo portarlo verso 2000. Perfetto. Exit. Ora andiamo a fare la stessa operazione per il canale 3 e il canale 4. Calibrati gli aim point. Andiamo su Betaflight. Colleghiamo la nostra LiPo. Accendiamo la radio. Andiamo in ricevente. Scendiamo verso il bus. E come potete notare il drone è immobile. fermo solamente se andassimo a muovere gli stick il drone si muoverà. Ciò nonostante se si dovesse muovere andiamo a mettere punto morto 13 o 10. Punto morto io 15. E lui avrà un minimo di lasco. Anche se non sono precisissimi dovessero ballare leggermente il drone non riceverà nessun input. Perché abbiamo impostato questi punti morti. Mentre siamo in questa schermata se andassimo giù e trovassimo il drone che schizza ovunque in questo modo dovremmo solamente andare a fare la mappatura dei canali. Basterà andare a scegliere FrSky. Poi andiamo in basso. Salva. Se continua a muoversi proviamo tutte le varie mappature. Vedrete che una delle tre vi porterà il drone in questa condizione. Ovvero stabile e lo comanderete con i comandi. Con questo tutorial abbiamo creato il nostro modello completo. Non è che ogni volta che andremo a configurare un modello dovremo fare una cosa simile. Cosa ci basterebbe fare andare sul nostro modello menu chimera ad esempio teniamo premuto e andiamo a fare copia modello lo portiamo magari alla posizione numero 2 copia in corso andremo a cambiare il nome a cambiare magari due impostazioni sicuramente cambieremo il bind andremo a fare il bind e siamo a posto. Abbiamo gli end point regolati abbiamo tutti gli switch regolati e siamo a posto. Basterà cambiare il nome e fare il binding e abbiamo tutte le funzionalità del modello che abbiamo creato in questo video. Ragazzi questa guida è stata davvero molto impegnativa ma sul web non c'era nulla di simile. Io quando ho incominciato guardavo un po' da uno un po' dall'altro non si capiva molto bene. Spero che con questa guida abbiate una linea generale da seguire quando dovete iniziare a programmare la vostra radio e programmare il vostro quadricottero con la radio in modo tale da farlo funzionare nel miglior modo possibile e avere tutte le funzioni necessarie per un volo più sicuro. Se vi è piaciuto questo progetto mi raccomando lasciate un bel like. Se non siete ancora iscritti e vi piace il mondo dei droni cosa state aspettando? Iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere più alcun video. E naturalmente per rimanere aggiornati in tempo reale su tutte le novità, su cosa combino, i vari video e interagire con voi. Mi raccomando Instagram e se siete appassionati del mondo dei droni ovviamente qualche pezzo di ricambio per le migliori offerte su Telegram. Noi ci vediamo su tutti i vari canali. Ciao a tutti!